Dopo 10 ore di viaggio siamo tornati, usciamo, andiamo a farci un kebab di nuovo, se lo troviamo, perché oggi ho mangiato la pizza, quindi ok. Il miglior kebab di Sofia. Il miglior kebab di Sofia. Il miglior kebab di Sofia. Buongiorno ragazzi, questo è l'ultimo giorno a Sofia, questo è un tipico quartiere vulgar, obbio tipico. Non come gli altri che sono più per turisti, ma siamo turisti, ma andiamo in quelli tipici. Buongiorno. 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 Buongiorno.